Scaldiamo il gelo di Carchiv. Con questo slogan l'Associazione Gulliver insieme agli studenti del liceo Mamiani e del liceo Marconi di Pesaro ha organizzato una raccolta fondi a favore della città ucraina entrata nella morsa del freddo. Milioni di persone infatti stanno rischiando la vita non solo per i bombardamenti ma anche a causa delle basse temperature. Come Gulliver seguiremo sia dall'inizio la raccolta fondi nelle scuole di Pesaro, l'invio del denaro a Varsavia dove padre Luca acquisterà tramite un accordo con Rao Merlen delle stufe padane in legna. La Gulliver si occuperà poi del trasporto e della consegna alle famiglie. Studenti, docenti e familiari sono invitati a donare un euro simbolico durante la raccolta che si svolgerà domani, venerdì 2 dicembre, nelle sedi degli istituti scolastici aderenti all'iniziativa. Il nostro intento è quello di portare ciò che studiamo a scuola e ciò di cui si parla quotidianamente soprattutto in questo periodo storico nel concreto. L'importante, il messaggio che vogliamo fare passare è quello di estendere questa iniziativa se possibile a tutta la regione, più scuole possibile, proprio perché non è importante l'ente che partecipa ma il contributo che concretamente come persone diamo e come studenti noi quindi abbiamo il dovere di partecipare oltre ovviamente al piacere di farlo per quanto mi riguarda. Si tratta di salvare concretamente delle vite umane, di aiutare qualcuno, di aiutare il prossimo e questo è importante come persone civili nella nostra società di oggi. Bellissimi i conveni che si organizzano, bellissime le scritte nella città contro la guerra, ma il nostro motto, ha ribadito il presidente Boccanera, è sempre lo stesso, atti non parole. Anche in seguito a una raccolta fondi fatta già in precedenza abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel nostro piccolo perché è importante essere uniti anche in queste situazioni, anche se non riguardano in prima persona noi, proprio per far capire a tutti la nostra solidarietà e il nostro conforto nei confronti di tutti in questa situazione così devastante e tragica. Queste iniziative partono dalle scuole perché le scuole sono il posto dove più di tutto si forge una persona e si forge al senso critico e la razionalità e soprattutto la solidarietà. Quindi sicuramente siamo la generazione della speranza ma è anche grazie alla vostra generazione.